Ciao, sono Lisa da QCQQ.com. La macchina a cuscire che uso da qualche anno è la Elna Lotus. Come si vede non assomiglia alle macchine a cuscire tradizionali. Infatti è tutto in volume compatto così, si porta così facilmente. Per usare la macchina si spinge questa cosa qua e si apre così. Sopra si apre così. Una cosa strana, ancora più strana, di questa macchina è che il filo, anziché portarlo qua, è qua. Ora ti faccio vedere come infilare la Elna Lotus e come preparare la macchina per iniziare a cuscire. Bene, ecco la nostra Elna Lotus. Allora, per aprire si deve spingere questa parte qua e si apre così. Qua si apre e ci sono le istruzioni sia come avvolgere la bobina e anche come infilare la macchina. Allora, come ho detto prima, la cosa un po' strana di questa macchina è che il filo, anziché portarlo verso destra, nel centro, ma comunque in questa zona qui, si porta a sinistra. Ok, come infiliamo? Prima c'è questa levetta qua che si deve portare qua e spingere verso di te e così sale questa parte qua. Per infilare il filo devi tenere la rocchetta così. Il filo deve andare verso sinistra e dietro. Eccola. Poi prendiamo questa parte qua, la Lotus ha sia questo più grande che uno più piccolo. Quello piccolo è un po' troppo piccolo per questa rocchetta, quindi uso questo qua più grande. Allora, si spinge qua sopra e ecco, ora è in posizione, si spinge così, ferma la rocchetta. Questo si porta di nuovo nel centro e si mette il filo in mezzo qua dove c'è questa apertura. Poi si porta qua dietro, dentro questo qua. Come farlo? Si porta a destra, poi a sinistra e entra qua dentro. Allora, prima che infiliamo la macchina è importante avvolgere la bobbina. Allora, per farlo io inizio sempre mettendo il capo del filo nel buco qua nella bobbina. Si mette dentro il buco, così, no? Ok, così. Poi si ferma col dito e si comincia a avvolgere manualmente a mano, così. Basta fare in modo che il filo è fermo, che non bisogna fermarlo col dito. Ok, si apre questa parte qua. Allora, tenendo il filo così, come se dovessi fare il filo interdentale, così è ben stretto, si mette prima sopra questo cerchio qua e si infila, si fa un clic così. Poi si porta qua a sinistra col pollice e di nuovo a destra, così passa qua sotto. E si tira. Si deve fare attenzione che sempre passi sempre qua dentro e qua dentro. Quindi, uno, due, tre, quattro. Poi si porta qua dove si avvolge la bobbina. Allora, è importante che il filo vada dietro e intorno così a questa bobbina qua. Si mette qua sopra e si spinge. Ok, ora accendiamo la macchina. Qua c'è... come si accende? Ecco, allora, per avvolgere la bobbina si deve spingere questa a destra. Ecco, si vede qui che si è scomparsa tutto quello che c'era prima e c'è questa spire, la bobbina. Per iniziare ad avvolgere si deve semplicemente premere il pedale oppure questa macchina qua, visto che mi sono dimenticata di attaccare il pedale, si può premere questo bottone qua, start stop, senza neanche usare il pedale. Ecco, si può aggiustare la velocità qua. La tartaruga è più piano, la lepre è più veloce. Teniamola sulla lepre perché dobbiamo solo andare avanti. Ok, ora si comincia a riempire molto e si sente un rumore e si vede che comincia ad andare un poco più piano qua. Questo è perché il filo comincia a battere contro questa cosa, quindi fermiamo. Ok, portiamo a sinistra. Ecco, si vede che non c'è più la spia della bobbina, c'è invece tutto il resto del punto e l'informazione sul punto. Si alza questo e poi con le forbici si taglia. Ed ecco fatto, abbiamo la bobbina e il filo. Ora mettiamo da parte la bobbina e infiliamo la macchina. Allora, togliamo qua, abbassiamo, quello non ci serve più. Ok, controlliamo che vada sempre dentro qui e dentro qui. Allora, è molto semplice seguire le indicazioni qua e anche sulla macchina perché ci stanno, ci sono i numeri con delle freccette per indicare come fare. Allora, uno qui, due qui, tre si deve andare qua. Sempre come se dovessi fare il filo interdentale, si mette qua dietro questo cerchietto in modo che clicchi qua sotto e si porta verso qui. Quattro. Ok. Quattro qui si deve entrare in questa fessura. È molto molto importante che si alzi il piedino. E si può togliere questo che non ci serve. Questo perché ci sono i dischetti della tensione. Quando si alza il piedino si allargano abbastanza per poter passarci il filo. Ora, teniamo questo, infiliamo nella quattro e qua c'è il cinque, quindi andiamo verso sinistra. Ha fatto un piccolo clic ma non si è sentita. Poi, sei. Questo se lo vedi che non è... se è abbassato, non si vede, si deve solo girare il volante qua a mano in modo che si alzi. Oppure si può premere questo bottone qua con le freccette per...questa abbassa e di nuovo alza. Alza il lago e alza questa cosa qua. Quindi si deve portare intorno qui, però dentro questo. Quindi qua dietro, clic, e si porta di nuovo qui sotto. C'è una cosa qua e un'altra qua che si va così. Ora ti faccio vedere più in dettaglio questa parte qua giù. Ok, ora vediamo come funziona qua giù. Dopo aver passato qua giù, passiamo il filo dietro questo gancio rigido e poi questo qua più sottile dietro l'ago lo passiamo qua dietro. Il mio è un poco deformato, non so bene che è successo ma non importa, funziona. Ok, ora passiamo il filo nella cruna. Di solito si legge il filo per poterla passare meglio. Io uso le dita. Passiamola nel foro. Ecco. Allora, quello che ho fatto, l'ho passato nella cruna e poi quando vedo che il capo è passato metto il dito per fermarla, poi con l'altra mano tiro il capo e tiro tutto quanto. Ok, bene. Ora mettiamo la bobina. Ci sono diversi tipi di portabobina in diverse macchine. La Lotus porta questo tipo qua, non quello di lato, questo di sopra. Ok, per aprirla si deve tirare questa parte nera verso destra e si alza il coperchio. Si tira fuori. Questo qua ha due alette qua che si entrano qua dentro, si spinge, fa un click, così si apre. Ok, tiriamola. Mettiamola da parte. Questa è la porta spoletta. C'è una freccia che va verso sinistra per far vedere come passa il filo. ci sono due fissure. Qua uno e due. Quello che si deve fare, c'è un disegno qua che puoi consultare per ricordare come si mette il filo. Va intorno così, poi verso sinistra, giù, nella prima fessura qui, intorno e di nuovo dentro la seconda fessura, come si vede nel disegno qui. Ok, ricorda si deve tenere in questo modo. Il filo deve andare verso sinistra e giù. Facciamolo entrare. Tengo il filo tirato qua a destra per entrare nella fessura. Ok, tiriamo di qua, facciamo cadere. Ok. Per fermarlo, metto il dito qua, così non gira e porto il filo verso sinistra. Vedi qua che il filo comincia ad entrare da solo dentro questa fessura qui. Tengo fermo, poi tiro verso sinistra. C'è una piccolissima fessura all'esterno, passo là e poi alla seconda fessura la porto di nuovo verso dietro. Non si vede benissimo, ma passo là. Porto il filo qua, così rimane fermo. Metto il coperchio, le alette vanno là dentro, si spinge, clic. Ok. Portiamo il filo di nuovo a sinistra. Ok, separiamo il filo. Si deve portare questo filo qui. Ehm... Vabbè, qua c'è il filo in alto. È molto importante, si deve ricordare di pescare il filo. Molti principianti non sanno che devono fare così, ed è molto importante. Ok. Fermo il filo così, con l'ago, giusto per non farlo girare. Si deve portare questo filo di sopra, sotto il piedino, quindi lo porto davanti e passa nella fessura là. Ok. Sotto il piedino in questo modo, così. Ok. È fermato, è fermo in questo modo. Per pescare il filo della spollina, tieni fermo il filo con la mano sinistra. Con il volante si abbassa pian pianino l'ago, poi si alza di nuovo, il filo di sotto comincia a venire tirato. Ferma l'ago quando è sopra, poi tieni fermo il filo contro l'ago, e comincia a tirare delicatamente il filo. Io faccio così per alzarlo. E vedi? Ecco! Il filo di sotto sale così, tiralo fuori con il dito. Ehm... Ora sta sopra, però si deve portare sotto, quindi sempre in quella fessura. Facciamo anche con quello di sopra. E eccola qua! Ci abbiamo tutte e due fili nella posizione che servono. Ora, leggi il manuale della Lotus, così puoi sapere come usare i vari punti e cuscire. Se vuoi delle idee fantastiche, vai da cucicucicu.com per tanti tutorial di cuscita. Ci vediamo presto! Grazie a tutti!